Sto riprendendo Sosta Relax Prima tappa 9 Forzato ovviamente Dopo 9 ore e mezzo di macchina Appartamentino Vista mare Ma non male la sistemazione Domani alle 4 Si riprende il viaggio Antennino Silvietta dove sei? Primo piano Che faccino Mamma mia Cambiamo Aia Ah che bel posto isi Tra Mare Tra poco saremo lì Mezzo al mare Vicinato Signora Padruna Padruna Beh c'è un cazzo d'altro da vedere Mi sa Ma che bella ripresa Aia Tom Sempre vicinato Il nostro appartamentino Visitino all'interno Volete vederlo? La casa non funziona Silvia Voilà E già le ho preso il cellulare Prima camera Cucina Sogiorno Un'altra Silvia Un incubo Due 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 Voi Questi E ti metti un Cess Bagno Sì Non c'è nessuna presa La mia mano Sono No, off-limits! Inizi subito! Riprendiamo il Terini Paolo! Andiamo bene! Ripetiamo! Cosa sta preparando? Sono tagliatelle! Tagliatelle? Sembrano divertite! Sembrano! Però in effetti sono molto sani! Sono ripieni di Catalogna! Riprendiamo! Riprendiamo! I ragazzi! Wow! 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10! Due qualità! Meraner! Questi! Facciamolo vedere! Qual è il Meraner? Questo! Un po' più saporito! Un po' più saporito! Anche sempre rotto! E l'altro? E questo è un V di normale, un po' spirato! Però per i non intenditori va bene! Non tagliata ancora! Bene! Perfetto! E adesso si procederà al taglio! Procediamo al nostro taglio! Perfetto! Si metto in posizione! Un po' più saporito! Un po' più saporito! Zà! Che male! Che dolore! Però sono buoni! Perfetto! Perfetto! Di Paolo! Allora, se vediamo le ragazze! Le ragazze! Le due Silvie! Lavorano qui! Allora, ne riprendiamo una di schi... Silviette! Enrica! Guardami! Oh! Silvia O! Silvia O! Luciana! Wow! Stai ragazze! No! Fai quiz! Cioè? Quegli spettatori! A chi assomiglia questa ragazza? Perfetto, primo piano Perché, perché La domenica mi lascia sempre sola Per andare a vedere la tua vita Vabbè, abbiamo conosciuto Oh, 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 oh Cazzo, Marco e C Cameron, via Fratello di? Di lei? Purtroppo no, cazzo Per voi, purtroppo Purtroppo per noi, infatti Vabbè, succediamo Speriamo che sta ripresa Insomma, lì ci sono accese Le camere Sì, buoni, senza offesa C'è l'essere c'è una mano Prisma? Fingono, hai firmato i pesci, buoni Silvia? Veramente, cazzo Non mi avete ripreso Con quei cinque Ripeti? Chi perdi toglie il costo Anche su delle penitenze Non mi viene in mente adesso Ok, Serena La barca è in moto Va bene? In porto Ma che schifo Sì, ma guarda che sei perni Tu lo devi fare Tu No, no, no Che cosa c'è? Non mi piace Niente, eh? Eh, mi sai che per volta Prentenze È un'asso È una maschera Un po' di accolto Sì 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 Perché mai hai visto la carta? Eh, è lui Mi ha fatto i segni E secondo me Paolo non vale Come cosa c'è da sapere? Ma che? Cioè, il rischio è un prenditoriale Madonna mia Ma non c'è giocacocco Ma ti ha fatto i segni delle carte? Sì 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 Fica Per queste riprese mi dovete pagare Perché ti stai diventando C'è anche questo rischio Il Zoom non c'è Sì, sì C'è zoom Ma questo è pronto Ma l'hai appena presa o ancora prima? No, è appena presa Mi ha appena presa E non piacere Scusami E dai Sì Sì No Sì Ma è un botone Sì Sì E non è un'asso Sì 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 hai preso, fa cotto 5 ne ho presi uno per uno ne voleva la mia il capitano, guardavo lì cazzo da dove suono? cazzo da dove suono? no cazzo da dove? Silvia! Invece di coppe? Va bene! Che messaggio sul dominare, Paolo! Dizze? Eh no? Da 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 Ehi! C'era, fatti vedere! Eh no, devi tirare la porta! Ehi, sto andando alla ceccata, sto rischiando la vita, e mi dai la schiena! Non so, prendola! Ah ok... eh? è meglio con un colinato eh? è meglio con un colinato puttana galera però vinto un po' un po' un po' un po' buses ragazzi gr 75 butte 2 ha beh è un po' non è tutto obbligato Ora qua ecco. Ciao, saluta Silvia. Ciao, saluta Silvia. A me viene da dire che se giro dietro questa... E' una strato durata... a 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 Silvia ragazzi ragazzi no devo riprendere la banda dei baffoni qua cellina cazzo cellina e dobbiamo mettere dei baffi sotto ecco la nostra barca l'equipe l'impaggio in parte fige fatti vedere ecco ti qua fige un sorriso oh guarda che bello sacchi mostra il baffo cazzo indica il baffo eccolo lì capitano serena i tuoi non li vedo aspetta primo piano niente da fare c'è da coltivarle ancora un po' eh un'altra birra dove sei paoli ecco il nostro 14 metri le barche le barche a di vela a bira un po' di bira un po' di bira un po' di bira oh grazie super ecco ok 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 Dov'è? Ancora no Paolo dov'è? Eh? Ma dove? Questo qua? L'ho visto, l'ho preso Cialina a bove Cialina 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 Grazie a tutti. 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 Puoi uscire? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quattro minuti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Grazie a tutti. 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 Che sono? Loro? Ah. Cosa vuol dire la manina sopra? Eh? cazzo mi sa che vuol dire che verrà sotto sotto esporto qua non avendo la lucina la lucina la lucina non so se viene molto chiaro qua adesso non viene figurati dopo non so se viene non so se viene stiamo lasciando cursura non so se viene good man grazie no non è mio no non è mio è mio serio? si? 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 lo vedo bene Ciappiamo questi? Ciappiamo? Ciappiamo? Ciao Mi ha mezzo equipaggio e quattro donne Senza una togliere Eccole qua Vividi Frutto del tuo lavoro C'è una barca Esporiazioni Scicandoci Silviette Ti ripresento Serena ragazzo Seguire Seguire Sì Perchare Sì Sì Non c'è un cazzo back Back Ho sentito Michele, stavo andando a Murter, era da queste parti, ha provato a chiamarmi ma c'era il cellulare spento, adesso sto andando verso le incoronate, eventualmente lo mettiamo più su, dove sono, ecco io, non so se venite, collo bianco, track, track, bottina, è esposito, un po' più sexy? Allora, ho un esposito, bene, ok, così ti va bene, l'ha detto bene? Perfetto, parte inopea, poi c'è Silvia F, aspetta che la inquadriamo, ok, poi sulla destra Serena M, che c'è in catalessi, inquadro te anche, e voilà, rinquadrata, dietro in fondo c'è Marco Sacchi, che riesco a bricchiarlo, senza baffi, e il timone, il timone è un po' oscurato in fondo, non si vede l'ombra, non si perde niente, e voilà, Pierini Paolo, adesso lascia l'accesa, e ti riprendo io, mi avvicino mi avvicino mi avvicino mi avvicino, prendo il tutto, prendo il tutto, prendo il tutto, prendo il tutto, e questa farà, prendi? C'è, c'è, ma no, c'è, e adesso secondo me casco in acqua, tornio da? Owww cambiata fidanzante il nome? il nome lo stesso per non sbagliarsi nei momenti intimi no? riprendi, riprendi ti ho fatto la zoomata sul pacco eh? Sì, mi puoi! Tutte storte si ripresa perché sto ridendo? Ho fatto gli esami, ho questa tattica. Appoggiavi il pacco? Sì, quando ero un po' architato. Fanno tutti molto contenti vedere questo film. Qua vomiteranno in molti, sulle prove per il mal di mare queste. Ma niente qua oggi eh? Sì, niente ci vuole. La gamba di Serena. Chiunque guardi sto filmino, mi scusi ma ci sono un po' di ondine. Eh 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 la mia, non era la sua piedino come la batteria? si vedeva che cosa che lampeggia dentro? che lampeggiano chiappa di serena ripreso culo ce la risparmiamo per dopo un po' prego vai vai si toli 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 C'è l'esca napronto? Ah! Prima e dolce, visto? Grazie. 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 Isola di Bis. Comizza City. Galeone. Grazie. 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 io lo voglio riprendere in roaming costante guardavo lì lui non lo sa ma io l'ho beccato primo piano la Cameroni l'ho accucato in roaming comandi l'ho accucato l'ho accucato l'ho accucato la Cameroni l'ho accucato in l'ho accucato in Grazie a tutti. 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 Dovremmo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si chiama... Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... 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 ...... ...... ...... ...... ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.